federico miceli buongiorno buongiorno e benvenuto a momenti grazie grazie mille per l'invito giovanni come stai tutto bene 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 speriamo di uscire presto a questa quarantena però speriamo speriamo bene anche se per insomma per l'interesse che hai tu diciamo che la quarantena immagino abbia intensificato un pochino la diciamo la fruizione dello strumento che tu utilizzi ecco non voglio anticipare niente però ti lascio presentare è vero diciamo che gli ascolti ci hanno premiato questo questi sono gli effetti positivi del coronavirus ecco ci sono effetti positivi senti per chi non ti conosce presentati un attimo che cosa fai allora io sono calabresi di la mezzia termini promizio di catanzaro sono un giornalista e quindi amo scrivere la mia passione quella della scrittura però da qualche tempo mi sono anche dedicato diciamo a parlare ricorrendo a uno strumento che ahimè sta diventando molto 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 importante che è quello della della radio perché tu conduci insieme a dei colleghi un programma radiofonico sì io insieme a barbara barbara crivaro e jessica boldoni stiamo conducendo ormai da molto tempo un programma radiofonico su punto radio città fujico che è una radio di bologna il programma si intitola inside out ed è un programma dove cinema e psicologia si incontrano due mondi che cerchiamo di metterli in comunicazione sentiti sono due mondi che ti hanno sempre interessato oppure un interesse che è nato con il tempo quello del cinema e della psicologia guarda quella della cinematografia mi è sempre appassionato nonostante io insomma abbia abbazzicato quelli che sono poi gli ambienti della facoltà di scienza alla comunicazione ero sempre o al dams che insomma la sezione cinema o a facoltà di scienza delle cinematografiche qui di bologna per cui quel mondo lì mi è sempre affascinato non dico che sono esperto cinofalo però insomma dei film e nintendo per quanto riguarda invece no la psicologia diciamo che molti miei amici avevano sono sempre ricorsi in qualche modo ad un esperto psicologo e quindi ho detto ma perché non uniamo questi due mondi cerchiamo di rendere uno strumento che di solito serve solo per intrattenere a renderlo uno strumento anche di una sua utilità sociale infatti così è successo e gli ascolti per il momento ci pregnano quindi è un format che piace mi fa piacere quindi diciamo che la l'idea la base di inside out qual è l'idea è quella di cercare di partire da scene di film un film più o meno noti che trattano determinati tematiche legate al mondo della psicologia e poi cercare con degli esperti psicologi o psicoterapeuti di interrogarci di approfondire quel tema lì per esempio domenica scorsa abbiamo trattato il tema del disturbo bipolare abbiamo fatto vedere un film che era il lato positivo con Bradley Cooper che soffriva nel film di punto disturbo bipolare e poi dopo qualche minuto nell'arco della puntata con un esperto psicologo ci siamo interrogati su quel disturbo lì quindi abbiamo scoperto la definizione le cause e soprattutto i consigli che si possono dare ai familiari o anche alle persone che soffrono di questo disturbo che non avendo in una laurea in psicologia non mi potevo permettere anche perché credo che gli ordini dei psicologi sarebbero sarebbero incavolati giustamente quindi mi sono affidato a degli esperti che con i quali di volta in volta trattiamo tematiche molto interessanti tematiche che non scelgo io scegli il pubblico noi facciamo dei sondaggi all'interno di facebook o altri attraversi altri canali social chiediamo quali sono i temi di cui si vuole parlare infatti cerchiamo di approfondire quei temi là bene e quindi da dalla calabria siamo spostati a bologna le tue colleghe le conoscevi già è stata una un incontro fortuito no io ho qua a bologna ho mio fratello lui studiava medicina e io provengo dalla famiglia di medici quindi anche un mondo quello che conosco particolarmente bene e quindi niente dalla calabria con un po tutti i meridionali ci siamo immigrati al nord italia infatti bologna è piena piena di meridionali calabresi siciliane pugliesi quindi anche io qualche anno fa sono salito in quel di bologna e queste colleghe quindi le sono tue conterranee diciamo oppure le hai conosciute lì a bologna allora barbara barbara e jessica ci siamo conosciuti sempre radio città fujico abbiamo fatto un corso un corso di conduzione radiofonica con jessica con barbara un corso di giornalismo radiofonico che sono due corsi che preparava la mia radio radio città fujico e quindi tutte e tre eravamo accomunate dalla passione per la radio al termine di questi due corsi c'era la possibilità di presentare un format radiofonico al nostro direttore e quindi ci siamo messi un attimino a pensare quale potesse essere allora è venuto fuori inside out quindi diciamo al oltre al cinema alla psicologia hai messo insieme anche la passione per la radio beh sì certo io da sempre faccio radio da ormai molti molti anni ho iniziato con una piccola web radio col mio pc da casa la prima radio si chiama radio speed poi c'è stata un'altra radio golf piccole radio poi dopo ci siamo spostati anche a milano perché abbiamo i veri grandi corsi di conduzione radiofonica per chi fa radio sono direttamente sono lì verso milano radio 105 raditalia quindi le grosse radio solita fatto due due corsi di e quindi da lì poi ci siamo perfezionati perché la passione c'è però è necessario che bisogna perfezionare anche la tecnica perché non è semplice far radio perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare per cui se si sbaglia vengono delle cose orribili quindi sì anche perché a differenza della televisione ci sono delle scene che uno può guardare in radio c'è la tua voce da cui se non sai utilizzarla è un po come un doppiatore non so un film che ne so gomore interpretato in francese se non sai fare la parlata napoletana non viene una cosa orribile per cui ci sono dei tempi da perfezionare da rispettare e per diciamo per metter su una radio un po come come hai fatto tu cosa ci vuole allora innanzitutto una grande pazienza perché non è una cosa semplice per quanto riguarda le web radio in realtà è semplicissimo basta avere un pc si tratta di avere due tre programmi e che si possono tranquillamente scaricare gratuitamente avere un microfono e si può creare una web radio senza problemi il problema sussiste nel momento in cui si iniziano a utilizzare determinate canzoni brani musicali o video audio soprattutto audio perché stiamo parlando di radio che sono coperti a copyright per cui ci sono delle regole da rispettare ma quelle poi si imparano col tempo insomma ci si deve avvalere anche di esperti della radio come in questo caso il mio direttore o altri giornalisti che fanno radio per cui non è difficile fare radio se invece fai radio fm la cosa diventa ancora più semplice perché lì poi è una strumentazione ancora più complessa che può aiutare a far radio come nel caso della mia radio che è una radio fm per cui una radio che ha una sua frequenza e lì abbiamo dei tecnici che ci aiutano però il primo passo per chi vuole fare radio sono le web radio quindi direttamente a casa propria con un microfono un pc e si parte e la diciamo cos'è che ti ha spinto per la prima volta a dire ok voglio voglio aprire una web radio voglio comunicare con gli altri attraverso la radio ma guarda in un passato non lontano anche perché solo non so sono giovane diciamo io ho fatto animazione ho fatto animazione in molti villaggi italiani che esteri da animatori da contatto poi fatto il responsabile dell'intrattenimento e quant'altro quindi la parlantina diciamo non mi è mai mancata facendo i giochi in caffè i giochi aperitivi ero sempre su un palcoscenico a contatto con la gente a parlare quindi questa cosa diciamolo sempre avuta questa qualità di comunicare con gli altri siccome c'erano degli miei amici durante la vita universitaria che aveva fatto una radio universitaria che qui di bologna e ho iniziato i primi passi con loro scherzando con un docente parlavamo appunto in quel caso lì si parlava di diritto parlavamo di diritto costituzionale e perché sai ero calabrese si parlava di mafia e altro allora ok io ero un po ferrato su queste tematiche e anche perché insomma la mafia presente in tale in calabria in tutto il mondo e quindi sapevo di queste cose qua e allora ho iniziato a parlare quindi ero con la giacca la gravata una cosa molto professionale perché era una cosa universitaria da lì ho iniziato questo grande passione per la radio perché ho detto ma perché non farla diventare oltre che una professione una passione una professione vera e propria e quindi ho intrapreso questo percorso ho fatto dei corsi via via e fino poi a passare a Radio Città Fugico che è una radio appunto come dicevo prima FM quindi una radio un po più seria quindi io mi diverto a fare questa cosa qui ma quindi l'hai trasformato in un lavoro oppure è un lavoro è un lavoro a tempo pieno anche perché per fare radio io ho parlato poi scrivo articoli insomma perché poi se il giornalista se lavori lavora a 360 gradi non ti vuoi permettere di lavorare solo per una testata o per un'azienda o quant'altro lavori per varie persone e quindi cerco di accomunare la passione per la scrittura con la passione per la comunicazione quindi dalla radio poi passiamo a scrivere gli articoli a scrivere le nostre recensioni insomma per le varie inchieste e quant'altro quindi cerchiamo di anche mettere in comunicazione due mondi scrittura e radio insomma un network continuo mi verrebbe da dire beh sì io spero prima un po' di arrivare al tg1 chi lo sa io me lo auguro sognare non è un peccato per cui esatto esatto poi soprattutto insomma se c'è passione dietro se c'è una una voglia di sì ho avuto anche la fortuna di avere al mio fianco persone che mi hanno sempre supportato oltre che sopportato supportato quindi ho anche una famiglia che mi ha sempre spinto ad andare avanti questo è fondamentale perché le passioni ci sono però poi tra la fidanzata i parenti i genitori gli amici mi hanno detto perché non ti butti perché non vai perché non ci provi e questo mi ha spronato a continuare e a intraprendere questo percorso bene bene e senti invece un'altra curiosità che avevo quindi diciamo la radio mai detto è qualcosa che comunque ti ti assorbe molto tempo almeno da quello che ho capito come si articola la tua giornata tipo cioè hai una giornata tipo oppure ma guarda la mattina di solito parte con centomila telefonate perché a mettere in contatto perché poi in questo caso col programma radiofonico di inside out avendo a che fare con psicologi e psicoterapeuti adesso in questo periodo di quarantena molti psicologi fanno appunto le loro sedute con i loro pazienti tramite skype quindi hanno la giornata strapiena alcuni anche fino alle otto alle nove di sera insomma orari assurdi quindi anche per metterci in contatto con loro la mattina da parte con le telefonate per metterci in contatto email o telefonate quindi poi dopo principalmente noi strutturiamo strutturiamo la puntata già dal pomeriggio perché poi essendo un programma dove cine e psicologia si incontrano bisogna anche andare a cercare il film e le scene adatte per trattare di quel film di quel tema perché devono essere poi scene che solo ascoltandole anche per i non addetti ai lavori capisci che si tratta di quel disturbo di quella puntata quindi non è una cosa semplice quindi pomeriggioni siamo a strutturare la puntata quindi viviamo la scena contattiamo l'esperto gli inviamo le domande concordiamo le domande perché alle volte è fondamentale perché ci possono essere anche degli incidenti di percorso è capitato di esperti che hanno detto delle boiate colossali è un ascoltatore in una puntata del successo che ha chiamato in diretta che voleva chiedere per punto la sospensione del programma per queste cose che succedono purtroppo le domande e poi le risposte le lasciamo ai nostri esperti e quindi strutturiamo le puntate nell'arco della della giornata farà una pausa un'altra poi io scrivo i miei articoli l'invio insomma appunto al mio direttore però siamo sempre in comunicazione col mondo esterno in questo caso attraverso un pc perché le notizie bisogna cercarle scovarle perché se no non non vengono a bussarti alla porta quindi cerchiamo noi di muoverci giornalista chi fa giornalismo sta sempre perennemente attivo mentalmente non solo fisicamente ma mentalmente perché devi trovare notizie che devono attirare l'attenzione delle persone capito adesso per esempio stanno hanno fatto la mia radio una trasmissione con i detenuti adesso qui all'istituto penitenziario di bologna molti docenti non possono accedere agli istituti penitenziari per fare le loro lezioni allora con la mia radio hanno creato un format radiofonico per mettere in comunicazione i docenti e i detenuti e ho scritto qua anche un articolo su questa cosa perché è una genialata pazzesca infatti siamo arrivati al tg3 per parlare di questa notizia quindi i giornalisti stanno sempre operativi h24 un po come voi psicologi per cui siamo sulla stessa barca invece come quindi il lavoro lo strutturi da quello che ho capito da casa e ma fisicamente va in radio per registrare il programma oppure anche quello è fatto a distanza allora al momento stiamo tutti lavorando da casa per ovvie ragioni si può spostare stiamo limitando in linea generale le nostre sono sempre delle dirette per cui andiamo in radio pomeriggio ci organizziamo con le altre ragazze in redazione abbiamo uno staff di redazione con il quale poi ci mettiamo in comunicazione per strutturare la puntata fare il cosiddetto ordine del giorno siamo ormai 5 6 persone che stiano per un format radiofonico pensate quando la complessità di questo lavoro quindi andiamo lì ci ci confrontiamo prepariamo appunto la scaletta per le singole puntate e quindi poi dopo facciamo le nostre dirette direttamente lì è capitato che alcune puntate sono state registrate quindi sono state appunto preparate qualche giorno prima della diretta ma per venire incontro alle esigenze dell'esperto perché noi andiamo in onda tutte le domeniche alle 17 30 e non tutti gli esperti giustamente sono disponibili domeniche quelle domeniche di quella domenica lì quelle domeniche quindi abbiamo dovuto registrare qualche giorno prima però noi preferiamo la diretta perché va in diretta ed è molto più semplice perché registrare una puntata è molto invece più complesso perché anche lì bisogna rispettare a determinati tempi bisogna dire all'esperto di rimanere nei 10 minuti insomma è un po' complicato quindi di solito noi preferiamo il contatto diretto e quindi facciamo le nostre dirette cioè interviste telefoniche con l'esperto. Invece un'altra curiosità che avevo rispetto a quello che hai detto prima e cioè scegliere gli spezzoni magari dei film in modo che arrivino alla persona che ascolta come fai a capire quale pezzo del film radiofonicamente funziona perché immagino che un po' come dicevi tu a differenza del film in cui tu vedi l'immagine quindi arrivata a un certo punto la potenza ti arriva magari di un discorso oppure di una scena perché c'è questo effetto combinato tra il vedere il sentire il radio tagli completamente un pezzo. Sì 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 molto spesso in radio dobbiamo togliere anche i silenzi le pause è una regola d'oro proprio per chi fa radio e il continuo parlare no non si non ci possono essere dei tempi morti e quindi quando ci sono delle scene che noi dobbiamo individuare che abbiamo individuato dobbiamo togliere tutte le pause e quindi c'è solo l'audio che si ascolta per individuare le scene esatte molto spesso si tratta comunque di film noti e stranoti per esempio di schizofrenia abbiamo parlato il film beautiful mind un grande capolavoro ma ti ne potrei citare centomila di film veramente sono molto fossi quindi molto conosciuti però lì ci avvaliamo dell'esperienza appunto dell'esperto col quale ci confrontiamo e diciamo guarda abbiamo scelto questo film individuato questa scena cosa ne pensi è molto spesso lo stesso esperto che dice guarda in questo film secondo me dovreste invece concentrare la vostra attenzione su una seconda scena perché quella è dove si solo ascoltando la capisci che stiamo parlando di quel disturbo quindi diciamo noi ci avvaliamo soprattutto degli esperti che ci indicano le scene esatte perché se no non viene non rendiamo molto e questa cosa è una cosa che piace perché parlare di psicologia è bello è piacevole però se l'associamo a dei film vedo che gli ascoltatori questa cosa l'hanno apprezzata perché noi parliamo di film ma anche di serie televisive per esempio tra due domeniche noi parleremo della sindrome di stoccolma e l'associeremo alla telefilma la casa di carta per uscita come stagione per cui sono anche tematiche che possono piacere perché sono attualissime certo no e poi interessante molto infatti mi ha colpito questa questa cosa del programma e cioè la capacità di riuscire a spiegare anche cose complesse come possono essere alcuni disturbi veicolandoli in una modalità accessibile a tutti che è quella del film perché molto spesso appunto il film fa questo cioè riesce ad entrare nella persona in maniera soft quindi permette di toccare anche argomenti pesanti e chiaramente nella modalità più accettabile sì sì noi lo richiediamo questo di parlare in modo semplice perché i nostri ascoltatori non sono psicologi per cui se parli complicato già l'attenzione media di un ascoltatore dopo due minuti cala se parli ti trattieni scherzando figurati se parli di tematiche un po' complesse quindi la prima regola d'oro che noi imponiamo ai nostri esperti parlati in modo semplice in modo che chi ci ascolta capisce bene federico e progetti futuri prospettive future guarda noi ci auguriamo come dico sempre che questo format radiofonico travalichi non dico i confini di bologna invece dell'italia ma di bologna per cui possa diventare un format televisivo noi ce l'auguriamo perché vedo che è una cosa che piace molto quindi ci auguriamo che qualche buon insomma pensatore o comunque buon esperto di comunicazione ci possa sentire e capire che un format come questo vada portato in televisione ci auguriamo non lo so speriamo che questo che questo possa succedere insomma in attesa come dire di condurre il tg1 non lo so questi sono miei sogni però poi io ve lo auguro poi chissà benissimo allora intanto ti ringrazio grazie grazie mille a te complimenti per il tuo progetto molto molto bello grazie 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 mille ciao 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 giovanni